Benvenuti in questo tutorial delle trazioni impugnatura regolare o prona. In questo esercizio ti avvicini a una sbarra e le impugni con una larghezza leggermente superiore delle spalle con il dorso della mano rivolto verso di te. Questa versione della trazione è quella più difficile rispetto all'impugnatura supina per cui faremo vedere anche una versione facilitata con l'elastico, soprattutto per le donne che hanno più difficoltà a effettuarla. Quindi massima posizione di sospensione, trazioni con lo sguardo rivolto verso l'alto, un momento di contrazione di picco e riscendi in maniera controllata. Facciamo vedere adesso la versione facilitata. La versione facilitata prevede che fai passare un elastico nella sbarra, quindi dipende dal tuo tipo di sbarra posiziona l'elastico in modo tale da darti un aiuto. L'elastico al di sotto delle ginocchia ti aiuta a sollevare e sgravare leggermente la fase iniziale del movimento, quindi inizi la trazione che grazie all'elastico ti permette di salire più facilmente e riscendi nel movimento. Quindi l'elastico allungandosi ti aiuta a salire più facilmente. Questo movimento alleniamo tutta la zona del gran dorsale, soprattutto la parte definita in ampiezza, ma anche il trapezio centrale e tutta la parte della schiena in stabilizzazione. Per rimuovere l'elastico solleva le ginocchia al petto e l'elastico salirà automaticamente verso l'alto. Per ulteriori tutorial di esercizi seguici sul canale di Dieta Flessibile Italia.